da ballando ballando a danzando danzando c'è differenza forse sì mentre esplode il fenomeno delle trasmissioni di ballo a coppia in tv entra in crisi la formazione di danza classica come se la quantità la popolarità fosse a scapito della qualità come se l'aspirazione dei ragazzi fosse non più il bolshoi o nurayev bensì conquistare belen ballando con gli amici in tv persino roberto bolle la nostra stella cometa della danza lancia il suo grido di dolore sui giornali dove troveremo i talenti il fatto è che la situazione italiana è paradossale tantissime scuole di ballo capilarmente diffuse sul territorio ma nessuna differenza fra salsa rock balli latino americani danza acrobatica e ginnica e tchaikovsky a differenza che in altri paesi europei per aprire una scuola di ballo in italia non è necessario nessun diploma nessun esame si apre e basta magari chiamandola accademia di danza per ovviare a tutta questa situazione barletta ha ospitato il progetto tersicore è un progetto europeo di alto orientamento e perfezionamento nella danza a barletta al teatro curci sono stati esaminati 55 giovani ragazzi e ragazze dai 10 ai 24 anni provenienti da puglia e campagna per avviarne qualcuno a grandi scuole europee a basilea svizzera anversa e laia olanda ma il primo nella selezione potrebbe vincere non una partecipazione in tv ma addirittura la borsa di studio di un anno all'accademia di danza di monte carlo lì ha studiato mauro de candia coreografo e primo ballerino che è nato a barletta e si è affermato in germania attualmente vive a berlino e dirige il prestigioso corpo di danza di hozbrook in bassa sassonia lui è il referente in italia del progetto tersicore come si fa a capire se un ragazzino una ragazzina ha del talento per la danza beh un po una domanda da un milione di dollari questa il talento è qualcosa che va oltre una predisposizione fisica per quanto chiaramente nella danza l'estetica del corpo ha un peso e un valore molto importante la predisposizione fisica muscolare delle articolazioni delle braccia le proporzioni sono importanti però il talento è qualcosa che va oltre se pensiamo a nura e fracci i grandi danzatori che hanno lasciato un segno hanno quel qui di in più che che va oltre un po un fuoco nei giorni della selezione de candia ha presentato sul palcoscenico del teatro cursi in prima nazionale il suo ultimo balletto barbablu un castello di reliquie d'amore e il titolo una sua coreografia di cui è anche protagonista partendo dalla nota favola una esplorazione sulle punte dei rapporti di coppia fra immaginario e anche umorismo la danza classica moderna nelle sue più alte forme di espressione e spettacolarità con un cast internazionale di giovani superbi ballerini emozioni pure e ragazzi che attendevano i responsi e le convocazioni del progetto tersicore già sognavano già un bolle del futuro fra questi ragazzi avete visto in questi giorni ma sicuramente non solo uno ce ne sono diversi perché il nostro un paese artistico e nel nostro dna e sicuramente ci saranno ancora tanti altri ragazzi che dovranno dovranno questo è un nostro impegno calcare le scene quindi con formazione tersicore facciamo proprio questo dare loro la possibilità di trovare una strada più semplice è una strada più 언제cina e che attenzione però gli attenzione sono colleghi è un cant Tillman Di